Buon pomeriggio e ben ritrovati per questo nostro appuntamento dei nostri webcafei per spettrali totalmente dedicati alla missione Prisma. Siamo veramente entusiasti del riscontro che abbiamo avuto con il primo appuntamento e abbiamo più, ormai stamattina erano più di 500 visualizzazioni del nostro video caricato su YouTube che potete comunque continuare a rivedere e ricordo nel primo appuntamento c'era il nostro collega Massimo Zotti, capo della Business Unit Government and Security, che ha colloquiato con Alessandro Coletta, capo della unità osservazione della terra di ASI e nonché mission director di Prisma e ci hanno illustrato cosa ha significato Prisma per l'Italia, cosa sta facendo in sintesi in questi giorni, qual è il suo comportamento, quali dati sta acquisendo, mentre in questo secondo appuntamento cercheremo di entrare in altri dettagli ed è per questo che oggi parleremo con la dottoressa Francesca Santoro di Planetech Italia. Buon pomeriggio Francesca. Buon pomeriggio Cristoforo. E Francesca insieme ad altri colleghi di Planetech ha messo a punto l'implementazione dei processori di Prisma di livello 2 dove e oggi ci spiegherà nei dettagli insomma cosa si potrà ottenere quindi dai prodotti che vengono tirati fuori da questi processori e anche con oggi collaboreremo pure con l'ingegnere Ettore Lopinto di ASI, mission manager di Prisma. Buon pomeriggio Ettore. Buongiorno a tutti quanti e ben ritrovati. Allora direi di partire subito con Francesca. Francesca oggi useremo un po' di più delle slide per rendere più semplice la comprensione quindi invito già Francesca a condividere lo schermo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo dal 22 marzo 2019 giorno del lancio di Prisma. Come si diceva una volta scorsa abbiamo affrontato le fasi di commissioning e da maggio siamo sostanzialmente operativi anche verso gli utenti quindi ogni giorno accade qualcosa sia lì nello spazio che per terra. Dai Francesca vediamo. Ok perfetto quindi iniziamo a dare qualche dettaglio in più sul sensore poi vedremo anche qualche dettaglio in più sui prodotti. Quindi il sistema ottico di Prisma che vedete diciamo in forma prototipale nell'immagine in basso a sinistra è in realtà composto da una parte iperspettrale e questa parte iperspettrale è combinata anche con un sensore pancromatico. Di fatto il sistema iperspettrale è di fatto uno spettrometro che quindi utilizza appunto un prisma come elemento dispersivo che quindi è in grado di separare le diverse lunghezze d'onda, le diverse frequenze della radiazione incidente che vengono poi focalizzate in zone diverse del sensore. Più in dettaglio la modalità di acquisizione di prisma è il cosiddetto scanning push broom quindi di fatto l'immagine viene acquisita linea per linea lungo la direzione di moto del satellite e la singola linea viene acquisita contemporaneamente grazie allo spettrometro in tutte le lunghezze d'onda. Quello che ne risulta è quindi una un dato a struttura tridimensionale di fatto un cubo iperspettrale in cui il singolo punto dell'immagine in realtà è rappresentato da un set di valori che costituiscono appunto la firma spettrale di quel pixel. Perché è importante disporre di questo tipo di dati perché di fatto in un certo senso la firma spettrale di un certo materiale può essere intesa come una sorta di impronta digitale di quel materiale o di quella superficie e quindi analizzando particolari caratteristiche spettrali di quel pixel saremo in grado di fatto di classificare delle immagini oppure per esempio fare detection quindi identificare la presenza di un certo materiale in una particolare scena. Andando un po' più in dettaglio su come sono organizzati i dati di prisma, nei dati di prisma troviamo in realtà due cubi differenti iperspettrali, uno che copre il range tra i 400 e i 1000 nanometri quindi il cubo visibile vicino infrarosso che conta 66 bande spettrali è un secondo cubo quello dello SWIR che comprende 173 bande spettrali nel range tra i circa 900 e 2500 nanometri. Quindi come vedete di fatto c'è una zona di sovrapposizione lungo l'asse delle lunghezze d'onda su cui appunto i due cubi hanno bande comuni che quindi garantisce in un certo modo che l'intero range visibile infrarossa non decorte sia completamente coperto. Il dato iperspettrale è fornito a 30 metri di risoluzione spaziale ma in ciascuno dei dati di prisma oltre il cubo iperspettrale troviamo anche il layer pancromatico come accennavamo prima che ha una risoluzione più alta in particolare una risoluzione spaziale di cinque metri. Il pancromatico francese significa che c'è praticamente come se fosse una sola banda di tutti i visibili quindi è un'immagine in bianco e nero e grazie ai cinque metri riusciamo a comprendere meglio il posizionamento delle varie bande che invece sono appunto circa 240 e rappresentano per ogni fettina spettrale uno dei componenti della firma spettrale quindi potrebbero anche non prestarsi ad una interpretazione umana dell'oggetto che stiamo osservando. Esatto, la banda del pancromatico copre in realtà il range del visibile quindi avremo un'unica immagine come hai detto tu in bianco e nero ad una risoluzione spaziale più alta rispetto al cubo iperspettrale. Le scene di prisma coprono uno SWOT pari a 30 chilometri e per quanto riguarda il revisit time di prisma assumendo di voler osservare la stessa scena nelle stesse condizioni di acquisizione geometrica avremo un revisit time pari a 29 giorni. In realtà però sfruttando l'agilità del satellite questo intervallo temporale scende a sette giorni nell'ipotesi di acquisire la stessa scena, riprendere la stessa scena con geometrie di acquisizione differenti quindi angoli di vista differenti. Per quanto riguarda invece le performance sui prodotti finali al momento parliamo di un'accuratezza di geolocation di circa 200 metri che scendono a 15 nel caso in cui il processing sia fatto utilizzando il ground control point e un'accuratezza radiometrica del 5%. Ti interrompo un attimo Francesca perché sì, volevo ricordare che appunto attualmente il sistema non è in grado ancora di generare operativamente dati con una geolocation di 15 metri ma nell'ambito degli enhancement, dei miglioramenti che faremo a partire dall'anno prossimo questa è una importante attività prevista quindi dall'anno prossimo sarà possibile generare dati a 15 metri di errore sulla geolocazione. Ok, proseguendo quindi diamo uno sguardo invece a quelli che sono i livelli di prodotto disponibili per gli utenti che quindi potranno essere scaricati come vedremo con Ettore più tardi dal catalogo. Di fatto abbiamo due livelli di prodotto, livello 1 e livello 2 che vengono distribuiti in formato HDFEOS in particolare quando parliamo di livello 1 stiamo parlando di segnale al top dell'atmosfera quindi così come viene acquisito dal satellite a cui quindi non è stato ancora applicato lo step di correzione atmosferica. In più nel livello 1 troviamo le maschere relative a cloud coverage, sun glint e una prima classificazione della land cover. Passando al livello 2 invece abbiamo in realtà tre diversi livelli di prodotto, livello L2B, L2C ed L2D. In tutti e tre questi livelli viene applicato lo step di correzione atmosferica quindi stiamo parlando di un segnale relativo alla superficie, alla radiazione emessa riflessa dalla superficie. In particolare nel livello L2C in più troviamo anche delle mappe relative a componenti atmosferici quindi troviamo la mappa di vapore aqueo e delle mappe che caratterizzano otticamente l'aerosol e le luvole. Mentre nel livello L2D troviamo ancora un segnale in riflettanza di superficie in cui il modello geometrico che nei livelli precedenti viene calcolato, inserito nel prodotto come metadato, il modello geometrico viene appunto applicato e il dato viene riproiettato in geometria UTM. Quindi di fatto il livello L2D è un prodotto geocodificato. Quindi praticamente HDFE sarebbe il formato tipo invece di farlo in JPEG abbiamo scelto di complicarci la vita in realtà perché vogliamo aggiungere tante più informazioni che in un JPEG o in un TIFF normalmente non ci sono e poi c'è la necessità a terra di fare questi continui processamenti passando dal livello 0 fino al livello 2D per soddisfare determinate applicazioni. Francesca, Ettore, magari potete dire qualcosa? Perché uno dovrebbe scegliere, poi dopo Ettore illustrerà anche appunto la possibilità di scegliere determinati livelli di prodotto, però perché scegliere il livello 1 oppure il livello 2B, 2C e così via? Cioè per sommi capi, non abbiamo tutto il tempo, poi le applicazioni le vedremo anche nelle prossime puntate. Sì, diciamo che a grandi linee per applicazioni che in qualche modo mirano a studiare l'atmosfera o per esempio a stimare il contenuto, sto pensando ad esempio al contenuto di certi gas vaporacqueo o anidride carbonica nella colonna atmosferica, il livello di prodotto più indicato sarà sicuramente il livello 1 a cui non è stata ancora applicata la procedura di inversione atmosferica, quindi effettivamente il segnale che trovo nel prodotto è quello appunto relativo al top dell'atmosfera. Per tutte quelle altre applicazioni invece che si concentrano su segnali di superficie, in un certo senso, quindi classificazione, detection di particolari materiali o sostanze a terra, sono indicati ovviamente uno dei tre livelli, le due diciamo, che possono contenere informazioni aggiuntive, diciamo come quelle delle mappe che possono essere utili appunto a seconda dell'applicazione, possono essere utili o meno. Il livello 2D chiaramente l'hai già detto, lo ribadiamo soltanto, è il livello quello sovrapponibile alla mappa, quindi il prodotto geogodificato e quindi quello più direttamente vicino a chi fa mapping, ma anche analisi collegate appunto ai dati più al suolo, con la riflettanza geogodificata. Quindi in un ipotetico digital twin o in un data cube, forse è quello che si presta meglio ad essere per poter fare il carotaggio sui vari livelli delle diverse mappe che partecipano al... Sicuramente, ma naturalmente Prisma, ricordiamo, è il precursore della missione applicativa, quindi è un sistema scientifico orientato alla scienza e gli scienziati sono ovviamente, oltre che ai livelli 2, molto interessati ai livelli 1 perché è la radianza al sensore, quindi quella più vicino alla loro maniera di procedere. Va bene. A questo punto, insomma, abbiamo visto tutto quello che succede ogni giorno, perché poi ogni giorno questi dati vengono acquisiti dalla parte spaziale, quindi dal satellite, vengono inviati a terra e vengono processati e quindi ci sono i diversi livelli di processamento. Ora, con Ettore, cerchiamo di capire come possiamo accedere finalmente a questi dati, come possiamo aprirli, cosa possiamo farne. Ettore, hai la parola. Grazie. Allora, due parole anche sulla data policy, perché appunto per poter accedere è necessario registrarsi e quali sono, perché chiediamo questa cosa. Intanto la data policy di Prisma, scusate, è una, per ASI, una data policy molto innovativa, perché ricordiamo già dagli anni 70 la NASA, il OSGS e il JPL hanno adottato in vari periodi data policy aperte che periodicamente magari si restringevano e hanno notato voi in realtà che c'era una forte correlazione tra quanto si restringeva la data policy e quanti utenti si perdevano. Quindi, diciamo, l'idea di adottare una data policy aperta è un'idea che parte da lontano. L'Europa ci ha messo un po' di più, ma alla fine l'ha adottata anche l'Eclerc, Copernicus e Sentine, la data policy open e free, tutti quanti possono accedere ai dati, la registrazione è libera. La data policy che abbiamo deciso di utilizzare per Prisma è una data policy che noi chiamiamo quasi open. Le cose non permesse sono essenzialmente due. i dati non possono essere ridistribuiti e non è previsto attualmente un utilizzo commerciale. I dati non possono essere distribuiti perché, diciamo, noi richiediamo la registrazione di ogni utente sul portale. Quindi l'utente per poter accedere ai dati Prisma deve registrarsi sul portale. Adesso vedremo come si fa. Inserire le poche informazioni che abbiamo richieste e quindi puoi mandare in upload il file con la licenza che deve avere accettato. Abbiamo introdotto anche qui una novità che è la possibilità di accettare la licenza e di firmarla in qualche maniera, con il point and click, non più con la firma lografa. Una volta che l'utente ha avuto le credenziali può liberamente accedere ai dati. Liberamente significa che può farci molti utilizzi, non tutti, può utilizzarla per scopi scientifici, può farci ricerca e sviluppo, può anche sviluppare applicazioni e metterle in preoperazioni, non può farci profit. Quindi l'unica cosa che noi per adesso, perché la data policy che abbiamo deciso di dotare dura un anno, l'unica cosa che non può fare attualmente è farci profit, quindi un utilizzo commerciale. Noi come industria sostanzialmente possiamo fare tutte le fasi di ricerca in tutti i progetti di ricerca possibili. Noi normalmente lavoriamo con le agenzie sia a livello nazionale che a livello europeo e quindi possiamo comunque utilizzare i dati e anche le nuove acquisizioni, poi stiamo per vedere, e quindi arrivare al punto, come dicevi, al preoperativo, non possiamo vendere servizi basati sui dati Prisma. Però possiamo anche fare pubblicazioni, insomma tutto quello che attiene alla ricerca. Assolutamente sì, certo. Se vogliamo vedere proprio operativamente come si fa a diventare degli utenti Prisma, questo è il portale in cui si accede già a registrare, una volta che si è già registrati. Per registrarsi il sito è Prisma HTTPS, non dimenticate la S, 2.slash Prisma ASI IT. Attraverso questo portale si può accedere al portale di registrazione, che è questo qui. Ci sono dei passi che abbiamo cercato di elencare qui e sono abbastanza semplici. Il primo è senz'altro quello di scaricare, non guardare dentro il browser, ma scaricare il documento di data policy e di licenza soprattutto. Queste sono le condizioni generali, che quindi sono la licenza di uso dei dati Prisma, quello che dicevamo prima, le condizioni generali per l'utilizzo e la fornitura dei prodotti Prisma, non le elenchiamo tutte quante, ma descrivono la fase di registrazione di utenza, come si ottengono le credenziali, le liability rispetto a ASI, quindi le limitazioni dal lato ASI alla fornitura dei prodotti, il processing, quindi l'elaborazione di dati personali che avviene nel rispetto, nel pieno rispetto del quello che si chiama GDPR, e una seconda parte che è proprio appunto la licenza per utilizzare i dati, quindi contiene tutti gli articoli legati che spiegano e diciamo stabiliscono cosa si può, cosa non si può fare, è possibile, e anche ha spiegato, che l'utente e le organizzazioni utilizzino i dati, sviluppino conoscenze, e quindi invenzioni, e ancora la liability verso ASI, i report e le pubblicazioni scientifiche sono senz'altro spiccati, e oltre che cosa è inserire questa frase che è descritta nella licenza, negli articoli, il progetto è stato comunque fatto nell'ambito di una collaborazione con ASI, e la proprietà intellettuale dei dati 0, 1 e 2 rimane in ASI. Tutta l'utenza è divisa in categorie, l'utilizzo del sistema, che è un sistema, è un precursore, quindi ha capacità e risorse limitate, queste risorse devono essere divise tra tutte e tra tutti gli utenti, la suddivisione è fatta sulla base di un aggruppamento di interiutenze in varie categorie, in categoria i suoi privilegi, che sono la quota, cioè la percentuale di risorse del sistema che può utilizzare, e la priorità che è utilizzata nel caso si abbiano conflitti di programmazione. Ed è utilizzata per... Questi, come li vediamo, non sono in ordine di priorità? Sono in ordine di priorità, ma tranne il Calval, che abbiamo messo per ultimo, perché in realtà... Sì, abbiamo messo per ultimo, perché appunto, soprattutto all'inizio, molti utenti selezionavano Prisma Calval Facility come categorie di appartenenza, allora Prisma Calval Facility è riservata all'utilizzo delle operazioni, quindi non è una categoria che va scelta dall'utenza. Le categorie che possono essere scelte dagli utenti sono quelle che sono elencate qui, sono in ordine di priorità. Abbiamo noi la priorità come utenti ASI, ma poi c'è ovviamente la scienza e le istituzioni nazionali, quelle non nazionali, il commerciale nazionale, quello non nazionale, e poi i vari non profit e spin-off. Ma vediamo direttamente come compilare la licenza. Non è una cosa molto complicata. il progetto title, la durata del progetto, ricordiamo, va espressa in cifre, l'area di interesse è indicativa per noi per farci delle statistiche, quindi può essere anche a livello di ricontinenti. Il progetto, qui è apparsa una finestra che ci segnala che il progetto deve essere lungo almeno 150 parole, che è il minimo che chiediamo per avere appunto una descrizione. Di nuovo, sono tutte informazioni che a parte la riservatezza sono indicative, ci serviranno per fare statistiche essenzialmente, quindi migliorare la possibilità di utilizzare il sistema. Una cosa molto importante è scegliere l'utilizzo che vogliamo dei dati, ci sono molte categorie che abbiamo previsto e può essere scelta anche più di una. L'ottima cosa che riguarda la parte del progetto è scegliere la categoria in cui uno si identifica. National Science, purtroppo all'inizio ci sono stati un po' di problemi, National vuol dire italiano. Dopo questa fase qui, un po' di anagrafica, oltre, questo è il minimo indispensabile per poter essere registrati nel sistema e ricevere quindi le credenziali. Ma naturalmente, dato che abbiamo, non è prevista la ridistribuzione del dato, uno potrebbe pensare ma il mio collaboratore come fa, deve iscriversi anche lui. Allora abbiamo cercato di agevolare questa situazione, prevedendo anche la possibilità ad utenti affilati, dieci utenti affiliati e cinque contrenti consulenti di registrarsi. Quindi in realtà si può formare anche un gruppo, però il titolare della licenza è sempre il main user, questo qui che vediamo. E ognuno avrà un accesso? L'accesso è sempre quello del main user. Ah, è sempre l'accesso, quindi una credenziale. Una sola credenziale, l'unico abilitato ad accedere il main user, ma lui può fornire il dato anche agli appartenti del gruppo. Ricordiamoci di salvarlo. Scusa, la firma non l'ho vista? Dicevi che... La firma è semplificata, la firma è semplificata, ma non avviene nella licenza, avviene dopo che abbiamo fatto l'upload. La naming convention è cognome, ma è underscore nome. A questo punto la cosa che si fa è fare l'upload della licenza e l'accettazione dalle licenze, la dichiarazione che abbiamo capito tutto, che siamo d'accordo, eccetera, eccetera, avviene qui senza una firma olografe, ma flaggando questo box. Quindi attraverso questo flag uno dichiara di accettare la licenza e di averla innanzitutto compresa, ma di averla di accettarla anche. Se uno vuole essere informato sulle regole di privacy che utilizziamo, quindi rispetto al GDPR, può farlo qui. Se vuole ricevere informazioni su Prisma, può flaggare questo box. Allora, una volta che l'utente ha ottenuto le credenziali, le inserisce, ritorna su Prisma Asit, HTTPS e può finalmente entrare nel sistema. Nel sistema si entra con due possibilità, oltre la home page vedete è possibile anche accedere alla documentazione che contiene le specifiche di prodotto e il manuale di uso del sistema, ma diciamo le due caratteristiche, i due portali che sono legati alle due funzionalità del sistema sono la richiesta di nuove acquisizioni e il catalogo di archivio. Per richiedere nuove acquisizioni si sceglie ovviamente New Acquisition e si va in questa pagina qui, dove è possibile cliccando su New Order, l'utente può scegliere inizio e fine del periodo di valutata della richiesta, come ha già detto Francesca, la durata del ciclo orbitali è 29 giorni, ma sono 7 giorni quelli che sono necessari a Prisma per raggiungere qualunque postura a terra, se uno non impone nessun tipo di restrizioni su quelli che vedete qui, gli angoli minimo e massimo di roll. Uno poi sceglie come area su cui richiede un'acquisizione il punto in latitudine e longitudine che corrisponde alla sua area di interesse e una breve descrizione qui, può scegliere anche di elaborare a seguito di un'acquisizione venuta con successo il dato in maniera da ricevere direttamente via email il prodotto. In base all'attitudine e longitudine che è stata selezionata qui, ovviamente questa mappa poi mostra dove si trova il centro della scena che è stata richiesta. Possiamo provare con Bari per esempio, Bari a coordinate 16 e 8 e 41 e 1 e quindi vedremo il puntatore che si sposta. Il prodotto che ci arriverà avrà questo magari ma sarà esattamente centrato su più o meno al centro. Sì, i margini sono i margini piccoli perché chiaramente dipenderanno poi dalla configurazione orbitale ma sono piccoli spostamenti rispetto a questo centro del centro. Ovviamente questo non è l'unico modo di utilizzare il sistema l'altro quindi attraverso la seconda pagina questa qui è è possibile accedere ai dati che sono stati già acquisiti. Essenzialmente quello che viene fatto è scegliere un'area di interesse per esempio possiamo scegliere anche qui questa qui grande a piacere grande a piacere possiamo anche decidere di scegliere di restringere la nostra la nostra richiesta specificando un intervallo temporale oppure semplicemente sottomettere la richiesta e il sistema fornisce tutti i prodotti che ricadono in quest'area quando si seleziona un prodotto e il prodotto poi si colora e quindi il contorno diventa evidenziato a questo punto è possibile ordinare il prodotto per ordinare il prodotto no se ne possono ordinare anche più di uno add to basket nel momento di selezionare uno o più prodotti poi si sceglie per ognuno il tipo di prodotto e continuiamo con l'ordine a questo punto è stato eseguito messo nel basket questa produzione quindi andare nel basket selezionare il prodotto che si vuole e semplicemente ordinarlo a questo punto il processing del prodotto noi ricordiamo che l'archivio Prisma non contiene dati elaborati ma contiene semplicemente i dati di livello 0 quindi i dati vengono generati volta per volta i dati di livello 1 e livello 2 certo a questo punto il sistema sottomette l'ordine di processamento e a seconda delle caratteristiche del livello del prodotto il livello 1 il processamento dura circa 5 minuti nel livello 2 dura parecchio di più arriviamo anche a un'ora dopo una certa quantità di tempo verrà ricevuta la mail di conferma della disponibilità del prodotto attraverso appunto una mail con un hyperlink l'utente può semplicemente cliccare sull'hyperlink e quindi scaricarlo all'inizio di ottobre abbiamo fatto una piccola analisi nei 5 mesi nei primi 5 mesi di funzionamento del sistema i risultati sono questi qui un terzo degli utenti di un sistema italiano e 10 nazioni coprono praticamente l'interutenza il 70% abbiamo ovviamente una grossa rappresentanza dell'Italia ma anche l'India oltre alla Germania e America hanno una grossa componente Etterio penso che tu voglia ricordare la collega Rosa questa questa purtroppo la settimana scorsa la collega che mi ha preceduto come mission manager Rosa Loiz ci ha lasciati abbiamo tutti un bellissimo ricordo una persona davvero importante per tutti noi che tutti noi a Matera nel centro di giudizia spaziale conoscevamo da 30 anni ciao Rosa tutti quanti e sicuramente tutta la community che ci sta guardando ricordano e hanno conosciuto Rosa una vera espressione di gentilezza nel nostro mondo va bene allora il nostro appuntamento oggi termina qui e la prossima settimana ci ci saranno nuovamente Massimo Zotti insieme ai colleghi Giuseppe Maldera e Luigi Agrimani e di Planetech e la ricercatrice la dottoressa Claudia Giardino del CNRIREA ci faranno vedere come utilizzare i tool Erdas Imagine e Artbit e cominceremo ad entrare nel mondo delle applicazioni ripeto siamo molto contenti dell'interesse suscitato dalla community che quindi è molto curiosa rispetto a questo nuovo mondo e ci vediamo la prossima settimana un ringraziamento a te Francesca un ringraziamento a te Ettore per essere stati qui con me arrivederci 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 a tutti alla prossima a te Francesca a te Francesca a te Francesca a te Francesca Grazie a tutti.